Salve a tutti! Nel mio precedente video ho riportato alcune delle considerazioni di Nikola Tesla sull'incremento dell'energia umana prese dal suo saggio e del fatto che la macellazione degli animali sia un problema enorme e di come essa vada a ledere la nostra morale e di come impedisca l'aggiunta di velocità alla massa umana tale per cui essa possa elevarsi nel modo corretto. I ricercatori su animali compiono un'operazione abbastanza ambigua, cercano cioè di convincere in primi se stessi e poi soprattutto il pubblico del fatto che esista una differenza netta tra quella che è nata nell'Ottocento come vivisezione e l'attuale sperimentazione animale. Seguendo il filo di questo ragionamento quella, ovvero la vivisezione, era negativa. Questa, cioè la sperimentazione animale, è invece positiva e buona da pensare. Quella, ovvero la vivisezione, era grossolana, cruenta, non regolamentata a livello nazionale e internazionale. Si svolgeva la luce del sole con frequenti dimostrazioni pubbliche aperte a tutti, causava grandissima sofferenza agli animali e finì col provocare orrore. Questa, ovvero la sperimentazione animale, viene invece certificata come un complesso dispositivo di procedure accuratamente regolamentate. In teoria, un farmaco dovrebbe comparire sugli scaffali delle farmacie e degli ospedali solo dopo che attente verifiche di laboratorio ne hanno dimostrato la reale efficacia. In pratica, però, accade che le grandi case farmaceutiche creino molti modi per far credere che un farmaco sia necessario o utile anche quando non lo è affatto. Uno di questi è certamente la vivisezione dei test preclinici, un tipo di sperimentazione che, pur essendo ancora molto utilizzata dalle lobby del farmaco con il sostegno del mondo accademico, non offre alcun risultato attendibile sull'uomo. Eppure la gente pensa il contrario. Dice il dottor Massimo Tettamanti della lega antivivisezione, non so se per egoismo, pavidità o incoscienza, ma molte persone, pur non sapendo nulla sull'argomento, continuano a ripetere frasi come non si può fare a meno della vivisezione perché è necessaria per alleviare i mali fisici dell'uomo. Altrimenti, come faremmo a testare i farmaci e altri prodotti? Già nel lontano 1987, Bruce Ames, in veste di preside della Facoltà di Biochimica dell'Università della California, era stato piuttosto chiaro. I rischi di tumore determinati da sostanze tossiche si studiano con esperimenti su topi e ratti e il 42% delle sostanze finora esaminate si è rivelato positivo nel topo e negativo nel ratto, oppure il contrario. Quindi, se due animali strettamente imparentati e di breve vita come il topo e il ratto forniscono risposte completamente diverse, se ne deve dedurre che la trasposizione dei risultati all'uomo è estremamente opinabile. Il professor Lane Purchase, presidente della British Tossicology Society e vincitore nel 2004 del premio assegnato all'International Union of Tossicology, dice «I cancri provocati mediante impianto e iniezione dell'animale non possono in nessun caso, né per la causa né per l'effetto, essere paragonati a quelli dell'uomo». Anche Umberto Veronesi conferma questa posizione e dice «Gran parte delle ricerche sul cancro è stata svolta su animali da laboratorio». Si sperava di ottenere un modello sperimentale che riproducesse nell'animale le condizioni di sviluppo dei tumori umani e quindi di trasferire all'uomo i risultati ottenuti, ma intorno agli anni 60 ci si è resi conto che questa seducente ipotesi di lavoro non era realizzabile. I tumori dei topi, dei ratti, dei polli e delle cavie sono sostanzialmente diversi da quelli dell'uomo. Diverso è il loro modo di formarsi, di accrescersi, di metastatizzare, perciò nonostante le enorme molle di informazioni apprese, l'utilizzazione in campo umano era trascurabile». Si tratta di una verità ormai da tempo risaputa e attestata in ambito scientifico. Tanto per fare un altro esempio, il British Medical Journal così concludeva in un articolo del 2014, dicendo «La possibilità di utilizzare per l'uomo i dati ottenuti con gli esperimenti su animali ha perso negli ultimi anni gran parte della credibilità che vantava sotto forma dogmatica nel secolo scorso. La revisione scientifica ha sancito l'inattendibilità per l'uomo della sperimentazione sugli animali». Ma se i test sugli animali non sono attendibili, se ne deduce che i risultati, accettati come validi, andrebbero ridiscussi. È la logica conclusione a cui è giunto nel 2004 un gruppo di ricercatori di diverse università britanniche al termine di uno studio congiunto. Il team ha preparato un documento in cui è richiesto l'urgente revisione di tutti i dati ottenuti con la sperimentazione animale in base ai seguenti punti. Primo. La validità della ricerca animale per le potenziali cure destinate agli uomini deve essere urgentemente sottoposta a una rigorosa valutazione. Punto 2. Riesami sistematici potrebbero fornire importanti elementi sulla validità della ricerca animale. Punto 3. I pochi riesami già condotti hanno messo in luce difetti come aver condotto contemporaneamente trial clinici sugli animali. Punto 4. Molti studi sugli animali erano carenti dal punto di vista metodologico. Punto 5. I riesami sistematici dovrebbero diventare regola per assicurare il miglior uso dei risultati esistenti sugli animali e migliorare la stima degli effetti della sperimentazione animale. I medici e l'opinione pubblica, spiega la relazione, prendono come assioma che la ricerca animale abbia contribuito alla cura delle malattie umane. Ma ci sono poche prove scientifiche a favore di questa opinione. Esistono pochi metodi per valutare la rivelanza clinica o l'importanza della ricerca di base sugli animali e quindi il suo contributo clinico rimane incerto. Nel suo saggio Cancro, un male evitabile, il biologo Gianni Tamino cita come esempio il caso specifico della benzedrina e dice anche quando un composto è cancerogeno sia nell'uomo che in una specie animale, la sua cancerogenità può manifestarsi in modi e parti del corpo diversi. La benzedrina, per esempio, causa tumore alla vescica negli umani, tumore al fegato nei criceti e tumore alle orecchie nei ratti. Inoltre affonda il dito nella piaga evidenziando i metodi di scarsamento scientifici seguiti ancora oggi dalla ricerca. Dopo anni di ricerca il cancro fa ancora paura. Nonostante moltissimi soldi spesi e le migliaia di ricercatori impegnati in questa battaglia è ancora sinonimo di dolore e morte. E nella natura di questo male oscuro l'essere invincibile o qualcosa nel modo di affrontarlo non ha funzionato? Cosa ha significato, per esempio, per la ricerca la scelta unidirezionale a favore della divisezione? In altre parole, persiste con l'utilizzo della sperimentazione animale, che non solo fornisce dati inattendibili. Potrebbe anche avere indirizzato la ricerca in una direzione sbagliata, allontanando o ritardando la scoperta di cure più efficaci. In realtà esistono metodi di ricerca alternativi alla divisezione che sembrano funzionare assai meglio e offrono maggiori garanzie di validità sull'uomo. Nel giugno 2007 il Consiglio nazionale delle ricerche della National Academy of Science americana ha invitato ufficialmente il mondo della ricerca a sostituire la divisezione con sistemi di sperimentazione più moderni e di reale valore predittivo per l'uomo, che fanno uso soprattutto di culture cellulari umane come la tossicogenomica. Gli animali, peraltro, oltre a essere assai diversi dall'uomo, sono anche molto più resistenti. Come cavie da laboratorio forniscono quindi risultati così ambigui da essere facilmente manipolabili secondo convenienza. Solo per citare qualche clamoroso esempio, negli anni 70 vennero pubblicati numerosi studi epidemiologici che comprovavano la responsabilità del fumo di sigaretta nel provocare il cancro. In risposta alle prime accuse di tossicità del tabacco, la Philip Morris assoldò alcuni scienziati compiacenti della Hazleton Laboratories e finanziò un'apposita ricerca attesa ad accertare il contrario. Centinaia di cani Beagle vennero così costretti a inalare il fumo di sigaretta per numerose ore al giorno attraverso tubi inseriti direttamente in gola con la tracheotomia. Poiché i polmoni dei poveri animali erano molto più resistenti di quelli umani, non risultarono particolarmente compromessi. Grazie a questa discutibile controprova, le multinazionali del tabacco annunciarono trionfalmente che il fumo non nuoceva la salute. Di conseguenza le persone hanno continuato a fumare ignare e a morire di cancro, fino agli inizi degli anni 90, quando la lobby del tabacco venne travolta da scandali a catena che portarono alla luce la verità. Anche senza ricorrere ai sperimenti scientifici, l'esperienza comune dovrebbe sollevare qualche dubbio sull'attendibilità dei risultati ottenuti con la vivisezione. Chiunque abbia un cane o un gatto sa bene infatti quanto gli animali domestici siano molto più resistenti di noi alle infezioni. Non contraggono tantissime malattie umane, per quanto possano nutrirsi di cibi che manderebbero un essere umano all'altro mondo. Per non parlare poi dei topi che vivono benissimo in uno scolo fognario. Scrive il dottor Richard Klosner, ex direttore del National Cancer Institute al Los Angeles Times. La storia della ricerca sul cancro è legata alla cura del cancro nei topi. Per decenni abbiamo curato il cancro nei topi, ma questo semplicemente non ha funzionato negli uomini. Il grande vantaggio della vivisezione a livello commerciale è l'ambiguità dei risultati. I ricercatori dell'industria farmaceutica possono manipolarne l'interpretazione secondo il proprio tornaconto. Il professor Silvio Garattini, fondatore e direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, è uno dei massimi esperti italiani nel settore, ha riconosciuto per esempio in un'intervista al messaggero che su 8500 farmaci disponibili sul mercato italiano solo qualche decina è realmente efficace. Circa 8400, ovvero la stragrande maggioranza di quelli in commercio, pur avendo superato tutti i controlli preclinici in vitro sui animali e clinici sull'uomo, non hanno i requisiti essenziali di sicurezza ed efficacia. Il 24 gennaio 2012, Marco Pizzuti, ex ufficiale dell'esercito, laureato in giurisprudenza, conferenziere, scrittore e ricercatore scientifico, ha intervistato personalmente Silvio Garattini riguardo alle ingerenze dell'industria sul mondo della medicina, lo stallo delle cure sul cancro e il recente scandalo della pandemia su Ina. Di seguito pubblicherò l'intervista al professor Silvio Garattini e vista quindi l'autorevolezza della fonte ufficiale consultata, le risposte lasciano trasparire un quadro inquietante sullo stato della medicina attuale. Abbiamo molti più farmaci di quanti non servono. Spesso questi farmaci sono prescritti, se vogliamo, inutilmente. Sì, ma soprattutto che molte cose siano inutili lo si desume da alcuni dati indiretti. Per esempio, non è possibile che nel sud si spenda molto di più che non nel nord. È un'evidenza che c'è un mercato, che non c'è una relazione diretta tra i bisogni e le prescrizioni. Noi dobbiamo far ridiventare i farmaci uno strumento di salute, perché i farmaci non hanno solo benefici, sono moltissimi le ospedalizzazioni che si fanno a causa di effetti collaterali indotti dai farmaci. Un'altra cosa che lei ha scritto è che la legislazione europea tiene in maggiore considerazione gli interessi di mercato rispetto al benessere degli ammalati. È grave? Sì, è grave, ma è la realtà. Se noi andiamo a guardare quali sono le regole per approvare un nuovo farmaco, dice che un nuovo farmaco deve avere tre caratteristiche. Qualità, efficacia e sicurezza. E va benissimo, sono tre caratteristiche molto importanti. Però queste tre caratteristiche possono essere per un farmaco che è meno attivo o più attivo di quelli che già esistono. Ma a me, come paziente, mi interessa che vengano provati i farmaci che sono più attivi di quelli che già esistono. Cioè il nuovo farmaco non deve dimostrare di essere migliore del precedente. Esatto, esatto. Non deve dimostrarlo. Sì, quando io vado dal medico e mi prescrive un farmaco invece che un altro, e non sappiamo qual è il migliore dei due, come fa? Da chi è informato il medico oggi in Italia? È informato dall'industria farmaceutica. Dove è l'informazione indipendente? Non c'è. Non c'è. Manca anche la ricerca indipendente. La stragrande maggioranza della ricerca clinica viene fatta prevalentemente dall'industria farmaceutica. Se tutto è fatto dall'industria chiaramente c'è un conflitto di interessi. Noi dovremmo invece avere le risorse per fare studi clinici indipendenti e vedere se quello che ci dicono è vero o non è vero.